Prima di tutto scusare, io mi chiamo Giovanni Cianti, probabilmente qualcuno mi conosce. Io oggi avrei voluto essere, e dovuto essere, un pochino più brillante e incisivo. Purtroppo sto passando un brutto periodo, nel senso che da quando ho iniziato a lavorare per questo libro sono nel frita carne. E ve lo dico non per vittimismo, ve lo dico perché si capisca una cosa, che se io avessi scritto solo delle sciocchezze mi avrebbero lasciato tranquillo. Il fatto che sono così scatenati dimostra che qualcosa di vero in quel libro c'è scritto, e ho toccato magari dei tasti che non dovevo toccarli. Ma io sono vecchio, c'è solo la mia buccia, quindi non mi fanno paura e vado avanti. Dunque, io, per presentarmi meglio, ho lavorato tutta la vita nel settore della comunicazione. Documenti, pubblicità, video, divulgazione scientifica. Questo mi ha dato un grosso vantaggio, è quello di conoscere tutte le tecniche, tutti i canoni della comunicazione di massa. Per cui è più facile per me individuare quello che si nasconde dietro certi messaggi, che magari arrivano e ci prendono inconsapevolmente. Parleremo stasera soprattutto, ed è la chiave di volta di questo volume, della mancanza di consapevolezza del genere umano. Di come in realtà la maggior parte di noi vive in una sorta di Matrix, non a caso hanno fatto questo film. Per cui crediamo di essere connessi con la realtà, ma in verità viviamo in un mondo virtuale. Per iniziare e per entrare in argomento, io volevo leggervi due brani di questo signore Aristocle, sovrannominato Platone, perché certe cose ci sono state dette già 2300 anni fa. Platone è conosciuto come il filosofo, però era anche pittore, era poeta, era un guerriero, ha fatto le guerre del Pelluconneso, era un politico, cioè era una persona estremamente inquadrata nel mondo in cui viveva. E guardate cosa ci ha scritto, cosa ci ha lasciato scritto. La sua tecnica di narrazione, diciamo, fondamentalmente è quella del dialogo, quindi far parlare altre persone per chiarire i concetti che lui vuole esprimere. Adesso da uno dei dialoghi di Platone, il Crizia, vi leggo due brevi frasi. Io vi prego di fare attenzione alle parole, perché le parole, al di là di un significato superficiale che possono avere, e si porta sempre dietro una storia dietro e dei significati un pochino meno evidenti. Ad esempio, se io dico mela, penso al frutto, però mi viene in mente anche il peccato originale, la mela di Adam e Deva, penso al malum dei latini. Quindi, vedete, c'è tutto un universo dietro ciascuna parola. Oggi, come oggi, con la neolingua, con il politicamente corretto, si è giocato molto sul significato delle parole, fino ad attribuire significati che in realtà non hanno, oppure nascondere certe parole perché è troppo chiare e che troppo evidenziavano una realtà. Comunque, tornando a Platone, cosa scriveva 2300 anni fa? Gli dei, una volta, si divisero in vari luoghi di tutta la terra, secondo la sorte, non per contesa. Ottenuto così con le sorti della giustizia, quanto era loro gradito, popolavano le terre, e dopo averle popolate, nutrivano noi il loro possesso e prole, come i pastori, il bestiame. Allora, al posto della parola degno, mettiamoci l'elite, è già il quadro, un pochino si chiarisce. E già il primo paragone non è l'usinghiero, perché non ci costringevano i corpi con la forza dei pastori, che trabano al pascolo il bestiame con le percosse, ma siccome l'uomo è un animale docilissimo, dirigendo quasi dalla poppa di una nave, secondo la loro volontà, e adoperando come timore la persuasione per muovere gli animi, reggevano così tutto il genere mortale. Cioè lui cosa ci dice? Ci dice che non avevano e non hanno bisogno di usare sempre la violenza, basta la persuasione, perché noi siamo animali docilissimi. E quindi si torna a questo concetto del greggio di una volta della mandria come l'occhiata io. Faccio vedere un attimo. Ecco, questo è il signor Platone. Dalla Repubblica, sempre, Platone, un altro brano pochino più impegnativo, appunto Il mito della caverna. Fate attenzione. Degli scritti di Platone si è discusso tantissimo, si è parlato per secoli, per millenni addirittura, facendoci credere che era banalmente un fatto di filosofia, un fatto così astratto, slegato dalla realtà. In verità, Platone parlava di cose molto concrete e se si segue bene le sue parole lo si capisce. Allora lui scrive, capitolo VII della Repubblica, Dentro la dimora sotterranea in forma di caverna, con l'entrata aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini, che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno al capo. L'illustrazione mi sembra, esprime molto bene. Alta e lontana, brilli alle loro spalle la luce di un fuoco e tra il fuoco e i prigionieri corre rialzata una strada. Lungo questa, pensa di vedere costruito un muricciolo come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini e anche questa frase, secondo me, è molto significativa. Poi vediamo perché. Vedo le spose. Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta, sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorate. E come è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono. Strana immagine, la tua disse, che strani sono quei prigionieri. Somigliano a noi, risposi. Credi che tali persone possano vedere anzitutto di sé dei compagni altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? E come possono, replicò, se sono costretti a tenere il mobile in capo per tutta la vita? E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? Sicuramente. Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? Ci tradisce i mezzi. Per forza. E se la prigione avesse pure un eco dalla parete di fronte? Ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell'ombra che passa? Io no, per Zeus, risposi. Per tali persone, insomma, feciò, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. Per forza, a Mise. E questa è la nostra realtà da sempre. Noi vediamo ombre, odiamo echi e siamo convinti che sia la realtà. Io la chiamo mancanza di consapevolezza, distonia e rispetto alla natura. È tipica e caratteristica di tutti gli animali addomesticati, uomini compresi. perché è una cosa che io vi prego di mettere da parte il concetto dell'antropocentrismo. Quel concetto che ci veicolano da diecimila anni e che è quello che ci inibisce di essere noi stessi. cioè ci dicono ma tu non sei un animale, tu sei intelligente, tu sei il padrone del creato, il creato è stato fatto solo per te, lo devi conquistare, lo devi possedere. In realtà non è così. Noi siamo animali, fai gli animali, forse anche un pochino più sciocchi di tanti animali allo stato grado. io vi dirò delle cose stasera. Fatene quello che volete. Cioè potete pensare che io sono un pazzo, le buttate via. Qualcuno mi ha scritto, questa cosa mi fa sorridere, un po' mi fusinga. dice l'autore deve ringraziare Basaglia che ha chiuso i manicomini. Hai capito? Perché non ha fatto questa battuta. Potete metterle da parte, queste cose, semplicemente dimenticarle o potete cercare di metterle in pratica e di capire in questa realtà così complessa in cui viviamo cosa è reale e cosa invece è un matrix e cosa invece è qualcosa che ci viene imposto e nient'altro. Ora voi vedete questa immagine. Questa è una pittura di Geronimo Boscia, un pittore a cavallo tra il 1400 e il 1500 che rappresenta l'inferno. Non si vede benissimo ma si capisce che c'è questa canea di esseri umani che sono divorati da mostri stranissimi, vengono uccisi, vengono bruciati, gli viene dato fuoco. Questa è la visione medievale dell'esistenza umana in pratica. Per questo l'ho scelta. Non a caso da sempre noi si prega il Signore che ci eviti la miseria, la carestia, le malattie, la guerra, dalla peste, dalla fame, dalla guerra, liberaci Signore. Perché in 12.000 anni di cosiddetta civiltà non siamo riusciti a fare un piccolissimo passo avanti. siamo sempre fermi allo stesso punto, nonostante il telefonino, nonostante i viaggi sulla luna e così via. E questa vita così miserabile è l'esatto opposto di quello che è riservato agli animali in natura allo stato obrato. Quella felicità che noi non conosciamo, che confondiamo spesso con la gioia, ma mentre la gioia è un'emozione, cioè un momento, la felicità è un sentimento. E quando mai noi ci portiamo dentro questa felicità come sentimento, come l'amore per i genitori o per i luoghi dove siamo nati? Quasi mai. Così nasceva questo libro che si chiama, giustamente, da questo punto Benvenuti all'Inferno, Passato, presente, il probabile futuro della madre umana. È articolato su una linea temporale, vedete, nella prima parte si analizza il passato, addirittura dal Big Bang non la sono presa comoda perché dovevo chiarire certe cose, in particolare è un fatto fondamentale che il caso non esiste, che tutto è finemente articolato e tutto segue un determinato svolgimento. Poi c'è una seconda parte riferita al presente che inizia nel 1989 che è l'anno che si festeggia adesso, il crollo del muro di Berlino quando cambia il paradigma del potere sul pianeta fino al 2020 cioè fra pochi mesi. Terza parte un probabile futuro non ho la sfera di cristallo però andando a scartabellare a frugare fra documenti ricerche scientifiche e sempre però documenti istituzionali e non di complottismo qualche previsione la possiamo fare fino al 2050 sono circa 400 pagine oltre 700 riferimenti scientifici e ricerche storiche perché ogni frase che io ho scritto l'ho voluta in qualche modo giustificare tranne l'ultima parte l'ultimo capitolo in cui esprimo la mia opinione come tale ve la vendo quindi fatene quelle che volete discutetene e buttate la via e questa è la famosa mandria umana vedete che il paragone è calzante io metto sempre le immagini perché le immagini sono più importanti delle parole questo è uno di quei capannoni enormi dove ci stanno 10-20 mila galline tra l'altro queste sono le famose galline a terra delle quali vivendo un uova in realtà sono sul cemento dei capannoni ma cosa mi sono spiegato a terra probabilmente sarebbe più igienico se stessero nelle capie dico io e questi siamo noi a qualunque manifestazione questo è il vaticano vedete so tutti gli applaudire il pava e c'è questo discorso appunto di enormi assembramenti di persone costrette in spazi limitati poi vediamo meglio questa cosa un'altra immagine che secondo me è terrificante qui siamo nel sud della Cina queste sono le stalle dove tengono i maiali da allevamento qui siamo a Torbella Monica a Roma queste sono le abitazioni degli umani non ci trova una grande differenza anzi a me mi fa la capriccio vedere queste foto però sono molto significative della considerazione di chi comanda di noi esattamente come il maiale della Cina una teoria che mi sembra abbastanza non del tutto credibile è che noi siamo una specie bioingegnerizzata con uno scopo ben preciso più esattamente bioingegnerizzata circa 140 300 mila anni fa e successivamente addomesticata poi vediamo meglio i dettagli si può supporre che l'aspetto dei primi sapiens dei primi umani sapiens fosse più o meno questi questi sono aborigeni australiani una foto fatta nel 1939 da un dentista che girava il mondo alla ricerca dei fisici e della dentatura perfetta il signore nel mezzo ha la barba bianca quindi evidentemente non è neanche giovanissimo guardate che fisici sono asciutti sono muscolosi e sono splendidi questo è il vero aspetto dell'homo sapiens poi noi vediamo qua una pittura egizia di 3000 anni fa in epoca già di domesticazione della mangria e infatti vedete stanno tagliando il grano sono coltivatori sono agricoltori attenzione al di là dell'aspetto estetico che è pure molto piacevole e questa è una foto dell'epoca cioè ci racconta nei dettagli come erano vestiti come era il copricapo come è il grano come è il faccetto e ci descrivono la posizione di lavoro di questi contagioli mi sembra fisiologica molti di voi vengono dall'ambiente fitness delle palestre la schiena curva tutto il giorno sotto il sole quando ero ragazzo io ancora i contadini in campagna dopo 50 anni camminavano così non riuscivano più a stare dritti questo è quanto ci hanno riservato allora facciamo un primo passaggio che comunque il Mauro Biglino ha spiegato fino alla noia praticamente noi siamo primati siamo in qualche modo vicini a questa grande famiglia la prima cosa che ci differenzia io poi nel libro ne cito almeno 20 di queste diversità del DNA dei cromosomi tra noi e primati ma comunque la cosa fondamentale è che noi adesso abbiamo 23 coppie di cromosomi contro 24 dei primati perché c'è stata la fusione tra due cromosomi si chiama traslocazione robertsoniana e già quello è qualcosa di abbastanza strano e di abbastanza misterioso poi arriviamo all'homo sapiens che sorge all'improvviso nella regione orientale dell'Africa nel cosiddetto corno d'Africa definito la culla dell'umanità che non ha una filiazione diretta con altre specie umane preesistenti e coesistenti con lui circa 140 200 mila anni fa per te dico 140 300 mila perché l'eva mitocondriale cioè il DNA dei mitocondri sapete sono quegli organelli che stanno dentro le cellule dieci danno energia risale 140 mila anni fa il cromosoma y maschile risale al periodo antecedente e quindi la damocromosoma è arrivato prima 200 250 mila anni fa io preferisco 140 mila perché a questo punto la coppia umana si è completamente formata e anche questo è buffo guardate se noi andiamo a leggere la Bibbia che cosa si scopre che Dio all'inizio crea Adam e poi Adam si sente solo allora gli fa Eva guardate in termini cronologici come c'è un'assonanza sarà un caso e sarebbero tutti i casi sono tutti i casi da vedere allora il sapiens rappresenta rispetto agli altri umani preesistenti delle caratteristiche peculiari che io vi anticipo sono funzionali non alla sopravvivenza nell'ambiente ma allo sviluppo della tecnologia e alla sottomissione hanno manipolato i geni per renderci adatti a sviluppare tecnologia e essere docili e sottomessi per esempio lo sviluppo dei lobi parietali il cervello degli umani a partire già dall'uomo habilis erano circa 800 cm3 850 cm3 e si è accresciuto nel corso dei milioni di anni fino ai 1600 cm3 del neandetta però sempre in senso longitudinale tanto è vero che questi umani mantenevano la fronte bassa e sfuggente che è caratteristica delle scimmie il sapiens evidenzia un notevole sviluppo dei lobi parietali che spingendo in avanti la corteccia danno alla nostra fronte quell'aspetto più verticale se noi andiamo a esaminare a cosa sovrintendono i lobi parietali noi scopriamo che fondamentalmente sovrintendono al pensiero simbolico mi spiego con un esempio gli scimpanzei quando vanno a caccia delle piccole scimmie di arboricole strappano dei rami dagli alberi con i denti gli fanno la punta quindi diciamo dei bastoni accuminati e con questi bastoni accuminati uccidono le piccole scimmie delle quali in parte anche loro si nutrono l'uomo di Neandertal faceva esattamente la stessa cosa cioè aveva dei bastoni accuminati con i quali cacciava ma non aveva ancora capito che se il bastone invece di usarlo tenendolo in mano io lo lancio è più micidiale perché ha più inerzia e lo faccio con più vantaggi per la mia sicurezza perché sto a distanza dall'anima è stato il sapiens che ha pensato di lanciare i bastoni e poi ha inventato l'arco e le frecce e questo è possibile solamente se c'è questa correlazione tra il simbolo e la realtà che poi è alla base della tecnologia poi questi luoghi varietali sono il centro per esempio della parola degli calcoli matematici della percezione dello spazio eccetera eccetera che sostanzialmente sono tutte caratteristiche che ci rendono idonei efficienti a sviluppare tecnologia altro accadimento stranissimo che avviene solo nel sapiens si abbassa la laringe a favore della faringe anche questa è una mutazione che in termini di relazione con l'ambiente evolutivo è negativa perché impedisce di deglutire e di respirare allo stesso tempo tant'è vero che i bambini fino all'età di due anni hanno la laringe alta e si abbassa con l'età perché hanno la laringe alta perché devono contemporaneamente succhiare il sangue materno e respirare si fa spazio la faringe e a cosa serve la faringe insieme alla cavità della bocca serve a vocalizzare il linguaggio a farci pronunciare a e i o u se io non avessi questa caratteristica oggi non potrei parlare con voi ci consente un linguaggio articolato allora qui bisogna fermarsi un attimo a fare una riflessione tanto si avrebbe il genetista ci dice si perché è avvenuta una mutazione genetica per cui si abbassa la laringe però bello possiamo parlare bello il linguaggio articolato si funzionale alla tecnologia prima di tutto ma poi c'è un risvolto negativo cioè noi non abbiamo bisogno del linguaggio per comunicarlo quanti di voi hanno un animaletto domestico in casa cani, gatti lo so cresceti non hanno la parola non hanno il linguaggio articolato però riescono a esprimere emozioni riescono a esprimere sentimenti riescono a esprimere bisogni o mi sbaglio tanto è vero che la comunicazione non verbale è circa il 70-75% delle forme di comunicazione quindi noi non abbiamo bisogno di vocalizzare il linguaggio però questa è una trappola nel senso che siamo portati a credere più alle parole che ai fatti e allora c'è il politico che ci fa tante promesse in campagna elettorale noi si si bravo lo votiamo e poi si scopre che lui fa altre cose c'è la ragazzina della quale siamo innamorati che ci dice se è l'uomo della mia vita poi si gira la testa e sta con altro questa è la trappola più grande che esiste e noi come si può obbiare mettendo sempre in relazione le parole con i fatti bravo hai detto questo vediamo se poi tu lo fai hai detto i giorni di una persona andiamo avanti ancora il genere della paura sapete che la paura è un'emozione fondamentale perché ci salva la vita ho paura di una certa situazione strada larga c'è una paura spontanea che è quella del topolino che già appena nato evita gli spazi aperti cerca di stare nei punicoli e c'è una paura indotta per esempio con le tecniche di Pavlov se io attraversando una porta prendo una scarica elettrica alla fine quella porta non l'attraverso più anche se la scarica non arriva a sovrintendere a questa emozione ci sta questo gene appunto che è chiamato oggi statinina che conoscevamo da almeno vent'anni come oncogene 18 perché è correlato alla leucemia e la cosa strana di questo gene è che è estremamente potenziato sia negli uomini che negli animali domestici e ha fatto un salto cromosomico nei primati sta al cromosoma 4 da noi è arrivato al cromosoma 1 sapete che i cromosoma sono numerati in base alla dimensione e all'importanza quindi il cromosoma 1 è più grande e più importante da una giusta misura di paura è passato a una fortissima espressione di paura e la paura a cosa serve? serve a tenerci docili il bastone e la carota se fai quello che ti dico c'è il piacere la carota se fai di testa tua c'è il dolore c'è il bastone la paura è una delle armi fondamentali di controllo sulla massa sugli animali in generale poi guardate che strano no? questi movimenti cromosomici queste mutazioni a me mi danno molto da pensare io non sono un genetista però vi dico quello che ho capito praticamente il DNA di qualsiasi essere vivente sulla terra è fondamentalmente stabile poi ci sono dei polimorfismi cioè delle espressioni diverse di questi geni ma sostanzialmente rimane dalle palle per milioni addirittura miliardi di anni che poi un gene faccia un salto da un cromosoma all'altro secondo me è un pochino strano anche perché quando si va a vedere queste ricerche sia umane che animali c'è sempre questa parola chiave il DNA risulta riarrangiato che vuol dire riarrangiato a casa mia vuol dire che qualcuno ci ha messo le mani e hanno cercato di spiegare in tanti modi li hanno chiamati transposoni questi geni quando cambiano in cromosoma o in tono più amichevole jumping genes i geni che saltellano è duro a capire e poi c'è un'altra circostanza che le mutazioni in natura avvengono e possono essere spontanee o indotte ma solitamente quando avviene una mutazione nel DNA di un vivente quel vivente o muore o non si riproduce perché è sterile penso vagamente alla sindrome di Klinefert per esempio il doppio X nel cromosoma sessuale xy maschio xx femmina questi poveretti vengono al mondo xx y per cui fisicamente sono una cosa molto strana organi riproduttivi quasi non sviluppati criptochidismo ipospatia ginecomastia obesi eccetera eccetera è sostenibile quindi quella mutazione loro non sono in grado di trasmetterla alla generazione successiva poi c'è un'altra cosa ancora molto importante secondo me è la neotenia cioè la conservata plasticità del nostro cervello per tutta l'esistenza perché il gene che chiude la cresta neurale quindi rende il cervello non più plastico non più in grado di apprendere è stato inibito devo fare una parentesi perché capiate meglio voi sapete che in tutti gli animali il cucciolo impara i comportamenti della vita adulta giocando il leoncino gioca alla caccia perché poi dovrà diventare cacciatore quando ero piccolo io c'era l'industria meccanica ci regalavano il piccolo meccano perché si dovevano diventare tutti meccani ci vuoi il piccolo chimico adesso gli diamo il tablet gli diamo l'elettronica perché il mondo va in quella direzione però in natura e questo avviene negli animali liberi allo stato grado a un certo punto quando si arriva alla maturità dell'individuo si blocca la plasticità della cresta neurale il cervello smette di apprendere e l'animale fa con quello che ha imparato da bambino questo nell'uomo e negli animali domesticati non avviene per cui noi rimaniamo disponibili ad apprendere per tutta la vita però figo anche questo è in chiave di tecnologia ovviamente c'è il signore di 80 anni che ancora studia sui libri magari si prende pure la laurea in medicina e tutti gli fanno i complimenti però è normale ma è normale solo per gli umani e per gli animali domesticati potrebbe essere una cosa positiva ma anche qui c'è un risvolto noi restiamo bambini tutta la vita in casa non so se ci avrete fatto caso anche a livello proprio somatico dei lineamenti del viso conserviamo i lineamenti dell'infanzia mentre gli altri animali poi quando sono maduri cambiano addirittura la fisionomia e portiamo per tutta la vita dietro questo bisogno di giocare che è una cosa mostruosa te giochi da bambino per imparare il mestiere che farai da grande ma quando sei adulto lavora pensa alla famiglia pipì no noi giochiamo tutta la vita e quindi c'è il gioco del calcio c'è il gioco delle bocce c'è il gioco delle carte c'è il lotto pensate al calcio che è uno degli strumenti di controllo delle masse più universale che esista che poi che tu giochi e che tu assisti sempre il gioco si tratta e poi c'è un'altra cosa altrettanto forse più importante se noi rimaniamo bambini quali sono le caratteristiche del bambino sono due fondamentalmente la credulità vi si racconta delle fate di Vago Natale della Befana e c'è il bisogno di protezione perché si sente fragile e noi questa credulità e questo bisogno di protezione ce lo portiamo dietro per tutta la vita ed è una dipendenza assoluta da chi ha in mano le ragioni del potere perché cosa si vuole dallo Stato che si occupi di noi che si preoccupi per noi che ci risolva i problemi prima ancora di essere noi stessi quindi si rimane i bambini che fai così erano che sono successe per esempio con i cereali il grano definito una chimera biologica compare all'improvviso circa 300-250 mila anni fa nel sud della Turchia dall'unione fra due erbe che non avevano niente in comune appartenenti a due specie diverse cosa di nuovo che in natura non dovrebbe succedere Triticum murartu e Gilopsia speltoides si fondono a realizzare un Triticum dicoccoides e cosa ancora più strana ciascuna erba si porta dietro il proprio corredo cromosomico per intero due erbe diploidi formano un tetraploido cioè quattro copie di cromosomi 10.000 anni fa ulteriore mutazione 8.000 anni fa ancora successiva di nuovo con una nuova erba a formare il Triticum spelta che addirittura diviene esatoide 6.000 anni fa viva il Triticum murstivo che è il grano tenero con il quale ci facciamo il pane al giorno d'oggi e con gli animali domestici è successa la stessa cosa 10 anni fa circa hanno finito la mappatura del corredo genetico dei bovini un miliardo e mezzo circa di bovini in tutto il mondo 22.000 geni molti simili a quelli dell'essere umano riproduzione immunità datazione e digestione tutti i bovini attualmente esistenti nel mondo hanno avuto origine da 80 femmine questo ci dice l'analisi del DNA 80 femmine di uro preistorico selezionate 10-11.000 anni fa in Mesopotamia in un'area estremamente circoscritta ora notiamo questo che i bovini sono stati fondamentali per lo sviluppo dell'acidità umana carne energia lavoro scarpe pelle ci ha dato tutto e soprattutto sono fra gli animali più docini che si conoscono non voglio fare riferimento alla poesia d'Amo più uova ma questo è chiaro a tutti e sarebbero stati originati da questa bestia assurda l'uro preistorico che noi conosciamo bene perché lo conosciamo bene? perché l'ultimo esemplare si è estinto in Polonia nel 1627 quindi ci ha accompagnato per tutta la civiltà ed è rimasto per 12.000 anni un animale ferocissimo che nessuno è mai riuscito ad addomesticare veniva cacciato per la carne per fare sacrifici lo portava nel circo per fare gli scontri con i gladiatori però nessuno in 12.000 anni è mai riuscito ad addomesticarlo vi sembra possibile che 12.000 anni fa in Mesopotamia hanno preso 80 femmine di questa specie e hanno creato un animale così benissimo vedete che ci sono delle cose che non si spiegano con la ragione io vi porto dei fatti poi ognuno fa le valutazioni che crede poi una volta realizzato questo biotipo umano che è portato diciamo all'efficienza massima per la tecnologia ed è estremamente docile e sottomesso parlo dell'essere umano in questo caso si è provveduto a quello che è il round up cioè si è riunita la mantria ne eravamo stati cacciatori raccoglitori all'improvviso ci dedichiamo all'agricoltura che è un lavoro massacrante che difficilmente è stato diciamo libera scelta io qui ho fatto un paragone che mi sembra calzante e anche molto feroce fra la domesticazione dei bovini e la domesticazione umana cioè i passaggi vedete sono gli stessi cioè tu prendi l'animale nella savana allo stato prato lo chiudi lo privi della libertà nelle stalle ma anche noi ci ha chiuso delle stalle che si chiamano città magari oppure quartieri particolarmente disperati o comunque noi abbiamo un recinto una gabbia una stalla che è data dalle leggi cioè noi siamo passati dalla massima libertà individuale alla scavitù della legge che è sempre un atto di violenza di prevaricazione può essere considerato più o meno giusto ma è sempre un'imposizione che ci viene da fuori non una scelta libera nostra spesso questi ambienti sono anche sporti ma gli odoranti pensate ai bovini nella stalla non è che i bovini sono contenti di stare lì attaccati l'uno all'altro e vivere nei propri escrementi non mi fa mea piacere per niente e così noi siamo costretti io penso per esempio a certi quartieri degradati o all'islamo delle grandi città a vivere nell'assoluta promiscuità spalla a spalla con altri umani e non sempre ci fa piacere e nella sporcizia poi gli animali domesticati sono utilizzati per produrre qualcosa nel caso della mucca carne e latte nel caso nostro energia e il lavoro per esempio questo è un call center adesso il lavoro si è spostato lì questi animali domesticati sono alimentati con cibo lurido lo definisco io non idoneo alla loro specie ma sufficienti a sopravvivere i bovini che sono erbicoli sono costretti a mangiare farine di cereale e di legumi che non sono alimenti adatti al loro sistema digestivo e li portano grandissimi problemi noi lo stesso guardate da 12.000 anni qui c'è una bella cosa da notare agli altri se ne rende conto da 12.000 anni per l'elite c'è sempre stato carne e verdura per le mucche i maiali e la massa degli umani c'è stato cereali e legumi e derivati del latte tant'è vero che attraverso la storia le elite vivevano esattamente quanto noi oggi Platone morì a 80 anni Pitagora a 90 perché la ammazzarono Leonida fu ucciso a 60 anni alle termopili ma a 60 anni poi c'è ancora la guerra a Versiani so se mi spiego mentre le masse nel Neolitico all'inizio la durata della vita è scesa a 25 anni poi risali pian piano a 27 30 35 fino al medioevo 40 non di più soltanto negli ultimi secoli in qualche modo è risalita a cominciare dalle campagne non dalle città perché le condizioni di vita nelle città erano terribili nella Londra della rivoluzione industriale la gente moriva a 25 30 anni come nel Neolitico perché c'era malnutrizione c'era sporcizia c'era inquinamento poi questi animali li facciamo riprodurre perché ci serve il rimpiazzo perché chiaramente con una durata dell'esistenza di 25 30 anni le generazioni corrono quindi devono arrivare i figli e quando serve questi animali vanno al macello capite bene cosa intendo per le buche e capite bene quale è il macello degli umani tutte le guerre che ci hanno fatto fare tutte le rivoluzioni tutte le straci io questo voglio sottolineare che l'uomo in quanto tale mai ha fatto la guerra mai ha fatto la rivoluzione mai ha fatto il terrorismo è stato utilizzato per fare le guerre è stato utilizzato per fare le rivoluzioni è stato utilizzato per fare il terrorismo con sistemi che ce ne sono a centinaia e qualcuno li vediamo insieme se va a noio me lo dite io parlo di calcio non potrei non lo seguo allora succede anche 12 mila anni fa quando fanno questo run up della Mantia che c'è una grande transizione economica cioè si passa da un'economia di sussistenza a un'economia di produzione l'economia di sussistenza caccia e raccolta l'economia di produzione inizialmente agricola ma successivamente con la stessa logica e con gli stessi sistemi poi industriale poi di servizi poi di consumi e compagnie quella cosa vuol dire qui bisognerebbe un po' capirlo questo perché quando ci parlano in televisione di economia cominciano a tirar fuori i numeri algoritmi discorsi astrosi noi ci sentiamo tutti scemi e si dice no ma questa è una materia troppo difficile per me è bene che la ne facciano uso gli esperti in realtà l'economia è la cosa più bischera del mondo perché tutte quelle attività funzionali alla sopravvivenza e alla riproduzione sono economia l'ape che vola di fiori in fiori a raccogliere il nettare fa economia il leone che caccia la razzella fa economia e quasi tutte le specie animali hanno un'economia di sussistenza cioè dall'ambiente prendono giorno per giorno lo stretto necessario a sopravvivere e non di più quindi non è un'economia di predazione è un interscambio con l'ambiente in questa economia di sussistenza l'individuo è la petina principale tant'è vero questo si rispecchia nella società dei cacciatori raccoglitori in cui l'individuo sta al vertice della piramide poi viene la società naturale che è la famiglia poi finalmente viene la tribù che è un insieme di famiglie che si ritrovano e si allontanano a seconda della necessità e anche qui ci sono dei numeri ben precisi che non vanno sottopalutati e ci aiutano a capire come perversa la società in cui si vive oggi cioè la la società tribale non deve mai superare non supera mai i 150 200 individui e questo ha messo in relazione con le dimensioni della nostra corteccia perché noi entro questi numeri siamo in grado di riconoscere l'individuo oltre questi numeri noi pensiamo per stereotipi per cui io conosco Matteo sulla sua storia la sua vita le sue necessità il suo carattere verso Matteo io esplico tutte quelle doti che vengono definite di umanità cioè la solidarietà la condivisione l'affetto l'empatia ma con gli stereotipi francesi gli inglesi gli africani io non posso esprimere queste doti perché io non li conosco perché io non so chi sono cioè impongono però noi viviamo in conglomerati umani che minimo sono 10.000 persone in un paese sono 150.000 in una piccola città sono milioni di una grande città sono miliardi addirittura in certi stati penso per esempio alla Cina un miliardo e mezzo di persone e non è una società naturale è una società che tu tieni in piedi solo con la violenza della legge solo con la coercizione e la gente soffre anche se non se ne rende conto di questa cosa quando ci han tolto dall'attività gioiosa di caccia raccolta basta andiate su youtube a vedere i boshimani quando vanno a caccia fanno una passeggiata nella savana frecce avvelenate vanno a tiro che tirano a freccia aspettano che muoia vanno a pezzi e si arrotano a un villaggio fine della loro giornata lavorativa due, tre, quattro ore al massimo di lavoro tra l'altro gioioso in mezzo alla natura in mezzo agli amici in mezzo alla famiglia lo stesso la femmina che va a fare raccolta di frutti e fratture tutta altra storia è l'economia di produzione l'economia di produzione prima di tutto non è mai profittevole questo è un altro concetto importante mentre l'economia di sussistenza è estremamente profittevole per l'individuo i dati antropologici ci dicono quattro ore di caccia porta sette chili di carne a casa la femmina dieci chili di frutta e verdura moltiplicateli per euro questi sette e questi dieci chili e vedete che guadagnano più loro con quattro ore di lavoro senza fatica di un dirigente d'azienda nell'economia di produzione non c'è profitto nel senso tu stai dieci ore schiena curva sotto il sole a zappare e se qualcuno di voi ha mai zappato sa la fatica bestiale che questo comporta in cambio di qualche sacco di gravi lavoro di un anno dieci ore al giorno per qualche sacco di gravi ma allora chi profitta dall'economia di produzione? il padrone del campo cento persone zappano per lui e lui prende il raccolto e gli dà il minimo per la sopravvivenza quando si era all'inizio della rivoluzione industriale primi fine 1700 1800 e sorgeva il capitalismo moderno uno dei teorici che era David Riccardo era un marrano spagnolo cioè un ebreo convertito al cristianesimo detto alle regole del nuovo capitalismo e disse guardate che il salario deve essere il minimo 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 indispensabile a consentire di sopravvivere alle persone perché la forza lavoro umano è una risorsa per noi inesauribile se muore l'operaio c'è il figliolo c'è il nipote è una catena che non si arresta mai mentre l'acciaio può finire il ferro può finire e altre materie prime si possono esaurire finché noi ci riproduciamo saremo sempre risorsa indispensabile all'economia di produzione dove l'ha preso questo modello di economia di produzione che in natura non esiste l'ha preso dagli unici animali che lo praticano in natura e sono gli menotteri formiche api pespe l'economia delle formiche che è quella più simile alla nostra vede un'estrema specializzazione di lavoratori vede attività di predazione vede guerre vede realizzazione di schiavi vede a livello sociale una piramide in cui al vertice sta la formica regina e poi c'è una serie di caste i maschi i soldati le operarie le compagnie regine è quello schema che noi abbiamo ricalcato per costruire la nostra società noi abbiamo un'economia e una società che sono identiche a quelle delle formiche per motivi non chiari non è chiaramente né un'economia né una società naturale e tanto è che è così poco naturale che ce la devono imporre sempre e allora tutti voi ricorderete la favoletta morale della cicala della formica e anche questa ci accompagna da millennio la formica laboriosa d'estate mette da parte il chicco di grano il chicco d'uva le riserve per l'inverno la cicala la cicala muore di fame di freddo va a bussare alla porta della polonia fammi entrare e fammi freddo e la formica gli dice hai cantato tutta l'estate adesso balla e gli sbatte la porta in faccia ora le chiamano favolette morali si raccontano a bambini ma questa è la favoletta di una ferocia cristiale è tutt'altro è immorale non è immorale e chi è che ci ha tramandato questa favoletta nell'antica c'è Esopo Esopo non era Platone Esopo era uno schiavo africano tra l'altro deforme si vede particolarmente intelligente quindi liberato divenuto liberto e quindi messo a servizio con il padrone quindi faceva quello che gli diceva di fare stesso discorso febbro nell'antica Roma stesso discorso della Fontaine nel 1700 in Francia a morto di fame che veniva foraggiato diciamo dalla novità vedete quanta più deltà c'è nelle cose banali di tutti i giorni questo passaggio economico non è giustificato da motivi razionali perché in natura l'equilibrio cibo popolazione ambiente è sempre perfetto vorrei farvi degli esempi ma si perde tempo non solo 12.000 anni fa il clima del pianeta era particolarmente favorevole perché era appena terminata l'ultima glaciazione quindi c'era in me la scusa del freddo del gelo l'uomo non ha mai avuto competitori naturali per il cibo non esistevano le malattie che come si è dimostrato compaivano con l'agricoltura e diceva la più assoluta libertà quindi chi glielo faceva fare non esiste non è logico però solo con questa transizione si poteva iniziare lo sviluppo tecnologico perché i sapiens nomadi diventano stanziali perché il campo di grano non è che te lo porti in giro sta lì ed è sta lì sorgono le prime città e soprattutto gli individui del conglomerato umano una parte si specializzano a produrre cibo gli agricoltori gli altri formano altre caste i sacerdoti gli scienziati gli architetti e possono cominciare a sviluppare quel pensiero simbolico per il quale siamo stati creati vedete come è tutto conseguenziato c'è un'altra cosa assolutamente bestiale secondo me consentite un termine cioè per due e mezzo tre milioni di anni circa dall'uomo habilis fino al neandertal siamo andati avanti con il bastone e la pietra scheggiata tre milioni di anni non siamo usciti dalla pietra scheggiata all'improvviso in dodici mila anni si va sulla luna ma vi sembra razionale sta cosa la ruota la scrittura e via e via io qui ho preso a riferimento diciamo le ruote per far vedere un simbolo dei nostri tempi ma a dodici mila anni sono niente nella storia di una specie soprattutto a confronto con tre milioni in cui non era cambiato nulla e un altro paradosso contemporaneo è questo ehi voglio spare la immagine che bello ve la racconto praticamente gli stessi sapiens che tuttora vivono allo stato grado in natura continuano a usare l'arco le frecce e la zagaglia mentre noi siamo nello spazio eppure sono sapiens come noi non sono altri umani ma proprio sapiens e quindi anche questo è molto strano e qui si parla che forse l'ha cancellata apposta noi ci siamo convinti guardate come bestiale allora perché in 12 mila anni dalla ruota siamo su nello spazio siamo andati sulla luna perché chiaramente non è una cosa spontanea e naturale c'è stata sempre dietro una spinta una pulsione a sviluppare tecnologia e ci riempie la testa dalla mattina alla sera il progresso lo sviluppo la tecnologia solo così migliorerete le vostre condizioni di vita non mi pare siamo più malati di cent'anni fa siamo più schiavi di mille anni fa per l'uomo in se stesso a parte l'apparenza diciamo della società dei consumi non è cambiato nulla siamo meno liberi sicuramente di 10 mila anni fa e in più abbiamo tutte le ricadute negative della tecnologia che non vi sto elencare ma intanto le cose